Una nuova relazione della Guardia di Finanza potrebbe modificare la prospettiva accusatoria ipotizzando il reato di truffa al momento senza indagati e titolo di reato sulla questione Ferragni. L'informativa riguarda la vicenda che ha già portato ad una maximulta per l'imprenditrice e per l'azienda di Cuneo che ha sfornato il dolce natalizio Pink Christmas per pubblicità ingannevole in materia di beneficenza. Nel frattempo alcune procure nei giorni scorsi hanno aperto analoghi fascicoli senza ipotesi di reato né indagati. Grazie